Questa mattina nella sede della provincia di Rimini è stato presentato Glu Glu Crash, una campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani studenti. Saranno previste iniziative che coinvolgeranno gli istituti superiori della provincia, in particolar modo assemblee a cui parteciperanno la polizia stradale e il personale del 118 per istruire i giovani sulle norme di sicurezza alla guida e sulla legislazione vigente. Assessore, sono tante le forze in campo per tentare di arginare un fenomeno che ormai è sulle pagine di tutti i giornali? Sì, siccome è un fenomeno che è molto presente nei territori e anche ovviamente a Rimini abbiamo pensato che il modo migliore per ridiscutere di questo tema e per affrontarlo nella maniera giusta fosse coinvolgere tutti i soggetti che in qualche modo si occupano di giovani. Quindi la provincia assoluta delle politiche giovanili che coordina il progetto, ma anche la scuola che è il luogo nei quali molti giovani, possiamo trovare molti giovani. E poi la polizia stradale che fa attività ovviamente di controllo e di prevenzione ma anche di repressione appunto dei fenomeni. E il CERT che da anni svolge un'attività molto efficace nelle scuole di informazione per quanto riguarda l'uso di sostanze, l'uso e l'abuso di alcol e soprattutto queste condizioni associate appunto allo stato di guida. Quindi un progetto che ha visto coinvolti diversi soggetti come è giusto che sia quando si vuole affrontare col piglio giusto un argomento importante come questo.